...e so quanto impegno ci avete messo, dire adesso dovrebbe essere la partenza, perché adesso si è capito come si lavora, come si dovrebbe portare avanti il discorso e io penso che non è, come diceva il dottor Quartier, non è la fine di un progetto, questo è veramente l'inizio del prossimo e ovviamente sicuramente vi vedrà vittorioso, perché per me, e devo dire sinceramente, stasera avevo preparato un discorso istituzionale che ho chiuso, perché mi sono entusiasmata a sentire quello che è stato realizzato, è vero, ripeto, che comunque lo seguo il progetto, assieme a tutti gli altri, e penso che veramente questo progetto abbia realizzato qualcosa di concreto, abbia veramente realizzato non solo tanto, perché si vede, si vede adesso, andremo qui e fuori a vedere quello virtualmente e domani potremo vederlo realmente quello che è stato realizzato. In particolare vorrei, da parte della regione Puglia, dell'assessorato al turismo, vi trasmetto un interesse che c'è stato proprio ieri sera, sono stata colloquio con coloro che curano il portale regionale, il portale turistice e i percorsi tematici e delle ipobie, in particolare per le ipobie, sono fortemente interessanti.